Ciao ragazzi bentornati sul canale bentornati su world of warships Oggi andiamo a vedere la corazzata premium tedesca di livello 8 Tirpitz Allora cosa dobbiamo dire su questa nave? Iniziamo subito col dire che abbiamo una gittata della batteria secondaria che arriva a 11.3 km Con tutto al massimo, bandiere, potenziamenti e comandante Abbiamo i siluri in grado che arrivano fino a 6 km Quindi un'arma ulteriore nell'uno contro uno E poi abbiamo un tempo di ricarica per quanto riguarda le armi principali di 25 secondi Avete capito bene Matchmaking, navi di livello 8 Ogni tanto anche io trovo dei matchmaking al mio livello 3 cacciatorpedinieri Tu dove stai andando incrociatore devi venire a sinistra Te lo devo dire subito Ok dai tu spero che almeno tu vieni da questa parte Akizuki vai a spottare a sinistra per favore In questa mappa c'è solo una cosa da non fare a inizio partito Ovvero andare centrali Non andate centrali per nessun motivo al mondo Eppure ci sono ancora giocatori anche a livello 10 che vanno centrali O peggio Si vanno a parcheggiare centralmente Quindi veramente qualcosa di inguardabile Allora Ancora più brutto sono i giocatori AFK Ancora peggio Coloro che non mettono i camuffamenti Ma queste sono altre storie che Già conosciamo Vediamo un attimo Lui ovviamente con l'incrociatore Vediamo se gioca in plotone con qualcuno No E vabbè Che dobbiamo fare? Devo andare solo io? Solo io da questa parte Veniamo spottati a 15.9 Ma è un dato che ci interessa Poco La New Mexico Abbiamo La maggior parte delle navi che vanno su Alpha Vediamo un attimo se riusciamo a distruggere subito un caccia torpediniere Perché Abbiamo bisogno di dare Dobbiamo dare spazio ai nostri Via Armi secondarie attive Tutto quanto su quell'incrociatore Caccia torpediniere di livello 6 Tra l'altro Tedesco Molto pericoloso Sì la Bismarck Uh addirittura Eh vabbè dai Va bene te lo concedo Te lo concedo L'importante però è distruggere il caccia torpediniere Io anche se prendo un po' di colpi non fa nulla Nooo Bravo Sì Ok dai Ne valza la pena dare 11.000 punti Hanno un caccia torpediniere in meno E' anche abbastanza pericoloso Per il fatto della idro Insomma e quant'altro Livello 6 tedesco Via a casa Aspetta perché Chi è che mi ha fatto la cittadella prima Vabbè andiamo su quello lì dai Vediamo se passano Ok Eh ragazzi però non mi fate affrontare da solo una Bismarck e una Caroline eh Commento live Ci tengo a specificarlo Vediamo se riusciamo a Bravo Vorrei sparare con tutti i cannoni Ecco 11.6 la distanza delle armi secondarie del livello 10 per intenderci Nooo Cosa ho fatto? Ho cliccato il tasto destro Vabbè Anche l'errore con Con i tasti ci si mette Aspetta Sono leggermente aperto però Uh Livello 6 inglese Leggerissimo Bravo Fermati lì Bravo Bravo Esattamente lì Bravo Penso che sia kill 1160 Questa la cancelliamo Non la pubblichiamo Né ora né mai Questa parte Niente mi sono preso Tanti danni per non fare La kill Mannaggia Molto male Aspetta 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 Ora basta eh Aspetta 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 E basta Abbiamo anche la New Mexico lì Perfetto Vai vai Allora sì Ora sì No vai sulla Bismarck Vai sulla Bismarck Eh su Alpha stiamo soffrendo però eh Su Alpha si soffre Si soffre particolarmente Una cosa incredibile sono alle volte i rimbalzi Oppure l'over penetration Che insomma Mi fa abbondantemente arrabbiare come precedentemente sull'incrociatore Nave leggerissima Cioè non può fare nulla Però vabbè L'RNG anche lì fa La parte sua La Mioco anche Prova Aspetta perché Siamo quasi a 6 km Io andrei già con i siluri No no Gaede Gaede No 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 Non fare cavolate Non fare cavolate Non fare cavolate Perché poi lui magari vede i siluri E va ad evitare i miei E abbiamo risolto nulla Se tu fai strike va bene Va bene dai Va bene va bene va bene va bene Bravo 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 Ok Perfetto Bravo bravissimo Bravissimo L'hai fatta bene L'hai pensata abbastanza bene Allora ragioniamo Recuperiamo un po' di vita C'è ancora il livello 6 no distrutto Quindi abbiamo la Mioco Mioco ha i siluri Vediamo se riusciamo un attimo a capire Ah le intenzioni della Carolina sono le seguenti Perfetto Quindi noi andiamo da questa parte Con Con i cannoni Iniziamo già A preparare il tutto La festa Sì vabbè secondo te A preparare la festa Per la Carolina Magari qualche colpo Anche sulla Lyon Forse più sulla Mioco Però eh Ora vediamo dai Mioco Perfetto E io veramente Non capisco I colpi che magari Sono più difficili Tra virgolette Penetrano Quelli più semplici Sulle corazzate Sugli incrociatori leggeri Non vanno a penetrare Vabbè queste sono cose Veramente assurde Non le capirò mai Ho capito che stai chiudendo Ho capito Ok così Andiamo sulla Carolina Ritirata strategica Via l'incendio Ritirata strategica Possiamo sparare Perfetto Recuperiamo un po' di vita Il settore di Alpha Mi sta Preoccupando molto Sinceramente Mi sta preoccupando Particolarmente Tra l'altro la Monarch Vorrei far notare Che era Non dico di fianco a me Ma quasi E' tornata indietro E poi vabbè Mi ha abbandonato In poche parole Non ho capito il motivo Tra l'altro Di questo suo abbandono Un altro 5000 Vediamo se loro Ok lui continua A venire No vai Ok perfetto Va sul cacciatorpediniere Abbiamo ancora Possiamo dire La nostra ancora La Lyon Tra l'altro Livello 7 Francese Particolarmente Devastante Con i suoi 16 Cannoni Quindi Di che parliamo Però si becca Un bel 7791 Ok Molto bene Proviamo un nuovo colpo In In pochi secondi Adesso Vediamo Se penetra Dovrebbe In teoria Il colpo è quello 3000 3000 Poco 3000 è poco Però lo accettiamo Lo stesso Noi accettiamo Tutto Alla fine I nemici Non hanno Sfondato Il settore Di Complici Anche secondo me I cacciatorpedinieri Che hanno fatto Una buona Una buona Dice un buon filtro Ecco Davanti alla difesa Questo è stato Un buon colpo Da parte sua Proviamo a fare così 1160 Non avevo dubbi 3006 Lo accettiamo Vedi Questa La monarch Molto timida Molto Molto Timida Un po' difficile La penetrazione La proviamo Lo stesso Anche perché L'ho mancato Quindi Allora Abbiamo perso La Cacciatorpediniere Molto male Massima velocità Io vorrei finire Quella Corazzata Francese Aspettiamo Tutti i cannoni Magari Lui Molto lento Per evitare I siluri Ok Servirebbe Una cittadella 6000 Lo posso Accettare Dai Il 6000 Lo posso Accettare La cadenza Di fuoco Della Kizuki Tra l'altro È devastante Quindi Potrebbe dire La sua Conoli HE E appena Sparo Abbiamo vinto In automatico Molto bene Mettiamo a zero Magari per evitare Colpi suoi Ottimo Allora Una partita Davvero Molto Molto Semplice Si è complicata Leggermente Quando La corazzata Inglese Si è ritirata Però poi è stata coperta In maniera Molto buona Dai due Cacciatorpedinieri Andiamo a fare Solo 104.000 Danni Per una nave Che ne può fare Anche 200.000 Non ci sono Problemi Due kill 159 colpi D'arma secondaria Una cittadella Più qualche cittadella Che si poteva fare Sicuramente Dreadnought Riconoscimento Eroico Punteggio squadra Arriviamo primi Con 1296 punti Però mi è piaciuta Particolarmente Sia la Kizuki Che la Gaede Livello 6 Tra l'altro Vediamo Livello Infatti la Monarch Si piazza A metà Classifica Per quanto riguarda Il rapporto Dettagliato Potevamo fare Sicuramente Di più Sull'incrociatore Di livello 6 Inglese 20.000 Danni D'arma Secondaria Crediti Ed Esperienza 330 Più 5000 Per quanto riguarda L'esperienza Del capitano Ragazzi Video terminato Grazie per l'attenzione Come sempre vi ricordo Di lasciare un bel mi piace Se possibile Anche una condivisione Per aiutare Sempre di più Il canale A crescere Ragazzi Direi che è davvero tutto Noi come sempre Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao